La chiesa di San Cristoforo ospita dal 22 novembre al 14 dicembre il World Press Photo, la mostra di fotogiornalismo più famosa al mondo che per il decimo anno fa tappa a Lucca. A presentare l'esposizione, assieme alle autorità cittadine, Enrico Stefanelli, patron del Fotolux Festival. La mostra del World Press Photo contiene 143 scatti dei migliori fotoreporter che l'anno scorso hanno vinto questa importante manifestazione, importante concorso internazionale di fotogiornalismo e quindi 143 scatti che rappresentano il meglio di tutte le situazioni che sono state vissute durante l'anno 2013 e che daranno la possibilità appunto di concentrarsi al meglio in questo concorso e in questa mostra. Un'esposizione fotografica davvero spettacolare dove gli argomenti affrontati e le ambientazioni scelte permettono allo spettatore di calarsi in pochi istanti nelle realtà più disparate con un senso di profonda emozione. Ma oltre alla mostra ci sono tante iniziative collaterali di alto livello. Nel primo giorno dell'esposizione, sabato 22 novembre, alle 15.30 il fotografo Oliviero Toscani sarà protagonista di un dibattito all'auditorium della Fondazione Banca del Monte. A seguire conversazione con Roberto Pisoni, direttore di Skyarte. La giornata terminerà con una visita serale a Palazzo Boccella dove gli ospiti saranno accolti dagli studenti della scuola MADE.